una donna poliedrica attrice cantante scrittrice mamma di blu e mercuzio in collegamento skype con noi al sabato del convento questo pomeriggio abbiamo il piacere di avere clizia forna si è ciao buon pomeriggio buon pomeriggio buon sabato a tutti quanti grazie grazie clizia davvero un piacere rivederti devo dirti che custodisco davvero con fraterno affetto i momenti trascorsi insieme qui a san giovanni rotondo e voglio anche dirti che ho sempre ammirato il tuo stile semplice ed elegante con cui ti approcci anche un po quelle che sono le tue le tue passioni paola ti ha giustamente presentato come una donna poliedrica ecco mi piacerebbe chiederti subito a quale delle tue passioni non non rinunceresti o in quale delle passioni ti rispecchi di più padre che domandona sicuramente in difficoltà anche mio compagno che è un vostro carissimo amico direi che è giocato via io fontana è difficile dire che cosa rinuncerei io mi sento da sempre dentro una fortissima spinta creativa io amo creare e veder crescere quello che semino ho anche piantato un orto che era fiorito benissimo però questo ancora a casa mia attreviso quindi ho dovuto lasciarlo però abbia ragione la creazione quindi il diventare madre veder fiorire questi ragazzi e poi prendere un personaggio scritto sulla carta e farlo diventare vero tridimensionale però forse tra tutte al di là della maternità ovviamente è al primo posto sempre la scrittura io penso che sia la scrittura è sempre stato l'ultimo pensiero con cui mi addormentavo il momento tra la veglia e il sonno è il momento in cui arrivano le idee divento antenna e penso alle parole mi piace essere un canale per le parole queste parole sono diventate un libro un romanzo edito da harper collins italia editore e il suono delle onde che resta è un libro sincero clizia una storia che abbraccia tante donne tu stessa in un'intervista hai detto che il tuo desiderio che questo libro questa storia faccia bene a tante donne è verissimo paola è un libro cui tengo tanto e io sono sempre stata totalmente incapace a vendere non prendere me stessa ma a vendere vendermi in un provino non sono mai stata abile nel marketing ecco ma quando si tratta della mia scrittura e soprattutto di quel progetto che sono delle onde che il resto ho avuto il piacerissimo di presentare da voi e allora lì divento un'altra perché è una storia che racconta sicuramente di una solitudine trincera in cui una persona trincea in cui una persona si una donna grande è andata a nascondersi e chiudersi dopo aver trascorso una vita complessa è la storia di una donna che non si è perdonata di aver sbagliato ed è molto spesso così siamo i primi giudici di noi stessi molto spesso non siamo in grado di perdonarci è un libro che parla secondo me senza giudizio di una questione importante dove molto spesso si piange il silenzio perché è una questione che adesso non posso raccontare proprio perché arriva alla fine di questa storia in cui ci si sente un po vittime e un po carnefici di un dolore che poi ci si porta dietro tutta la vita glizia tu hai conosciuto attilio ad uno dei programmi più seguiti di rai uno tale quale show nel 2013 se non sbaglio nasce l'amore dopo tre anni circa ecco arriva il primo grande dono blu francesco pio accade qualcosa durante durante la gravidanza e qualcosa che per fortuna poi ha un lieto fine e vi conforta e vi come dire vi conferma nell'idea di completare il nome di blu con francesco pio c'è sicuramente un legame con con il nostro grande santo ti va di parlarne precisamente sì allora la figura di san pio io lo sapevo era importantissima per il mio compagno operativo chiaramente io lo conoscevo ma non lo conoscevo approfonditamente quanto lui a filo perso il papà che era piccolo e ha cercato molto spesso in figure maschili una figura non dico sostitutiva per tempo è impossibile ma una guida e lavorando sulla figura di la vita di san pio lui ha trovato secondo me un pezzo di papà ed è riuscito a raccontarmelo con un amore per cui è stato quasi un dovere fatto con tutto il cuore quello di portare al nome di mio figlio questo altro nome che è francesco pio poi niente durante la gravidanza accidenti purtroppo per fortuna si è risolto nel migliore dei modi nel momento dell'impatto c'è stato un grosso tamponamento in autostrada e io avevo questo pancione grande chiaramente il primo pensiero è stato per questa bolla magica attilio era piuttosto sereno perché si era nel momento dell'impatto si era aperto il suo portafoglio ed era uscita dalla figura di pio che lo porta con sé un pio ragasso una figura abbastanza inedita non il solito la solita rappresentazione di san pio con la barba bianca e lui diceva lui è qui e va tutto bene e devo dire che a parte di blu quando guarda la rappresentazione appunto di san pio lo guarda come un nonno come uno zio come se ci fosse un qualcosa che li lega e in blu qualche cosa di questo santo lo trovo la capacità di appunto di creare di connettere di sentire sarà anche che sono dello stesso segno dei gemelli non parliamo di astronomia di oroscopi però sono vicini come commentava le immagini del papà che interpretava padre pio in actor day beh era affascinatissimo dalle musiche perché è un musical potentissimo al di là del della tematica che sembra esclusivamente religiosa lì è la storia di un uomo un supereroe quindi blu che era ancora più piccino quindi aveva due tre anni quando l'ha visto senza sovrastrutture secondo me se la stava godendo proprio come si stesse guardando la storia di un supereroe grazie per averci aperto questo cassetto della tua vita della vostra vita privata glizia il destino è nel nome come dicevano i latini no nome nomen glizia era una ninfa greca che è stata trasformata poi in girasole per continuare a seguire il suo amore e la tua solarità glizia traspare davvero a 360 gradi come fai allora speriamo non lo so se l'ho chiamato io il nome o se il nome mi ha portato il sole a parte che è stata la prima parola che ho scritto questa cosa non ha portata dalla prima parola che sono riuscita a scrivere di mia mio pugno io mi sento fortunata questo è alla base di tutto sono fortunata vivo di quello che amo e ho avuto già tanto in questi miei primi 35 anni di vita quindi penso che la riconoscenza sia la base della mia solarità e una visione del futuro che è sempre sono una fonte inesauribile mi devo pensare credo che questo sia il punto di partenza mi sento fonte inesauribile quindi posso sempre fare meglio e questo mi fa guardare in avanti con questa come solarità e poi il sole è creazione no è vero certo proprio così glizia sicuramente attilio ti avrà accennato alla giornata degli artisti che abbiamo istituito il 5 settembre scorso sai che la chiesa come ha fatto anche lo stesso padre pio guarda con con molta attenzione al mondo degli artisti proprio perché è un mondo che davvero può veicolare la bellezza attraverso l'arte ma è anche un mondo un mondo fragile ecco i pilastri di questa giornata che ci auguriamo continueranno anche nei prossimi anni il 5 settembre sono proprio la spiritualità e la fraternità cosa ne pensi innanzitutto che è un'idea bellissima anche perché si guarda al nostro mondo come il mondo della frivolezza della superficialità e si della bellezza ma intesa in modo prettamente estetico che inizio è tutto un cartongesso no non esiste nessuna struttura reale mentre la chiesa è un'istituzione così solida così insomma richiamo subito un concetto di profondità di spiritualità quindi unire queste due cose secondo me un canale molto interessante di grande ispirazione sia per noi artisti che per chi guarda l'artista il più grande artista resta dio il creatore di bellezza noi restiamo veicoli noi artisti siamo figli di dio anche in questa missione che è quella di portare bellezza e consolazione e l'altra cosa che trovo meravigliosa che appunto questo ambiente porta esporsi moltissimo e più si è esposti più si è vulnerabili e le ferite possono fare molto male perché si va appunto sia su quello che facciamo ma anche su quello che siamo è un mondo in cui le distanze vengono annullate subito al di questo periodo storico ci si abbraccia subito si diventa amici ma nel momento in cui si sta male si ha un bisogno ancora più forte di di un cantuccio di un calore di un abbraccio che a volte soltanto la fede riesce a donare quindi è un connubio che fa bene e dovrebbe essere un esempio universale clizia vogliamo fermarci qualche istante facciamo una brevissima pausa poi torniamo insieme e ascoltiamo un minuto di una bellissima canzone che avete scritto tu e attilio che è proprio dedicata al vostro primo genito fermiamoci e poi tra pochissimo di nuovo insieme